VITOR LASLO88 Però ogni volta che esce un capitolo si pensa che sia l'ultimo e poi dopo anni ciccia fuori. Non hanno una programmazione ben definita, dipende anche dagli impegni del buono Rowan Atkinson che interpreta proprio il protagonista Johnny English e credo che ci siano tanti affezionati a questi film. Perché sì, non stiamo parlando di filmoni, hanno anche una comicità abbastanza datata nel senso che alla fine l'umorismo di Rowan Atkinson è sempre lo stesso. Lui, lo sapete, è Mr. Bean e in Gran Bretagna è popolarissimo, più che mai ancora adesso, anche se Mr. Bean non va in onda da anni, hanno fatto ogni tanto qualche special ma niente di che. E il suo humor britannico l'ho sempre trovato irresistibile, sono di parte perché comunque io, Mr. Bean l'ho sempre seguito quando ero bambino e mi faceva ammazzare da ridere. Ho sempre adorato la comicità molto fisica, anche lo slapstick non mi dispiace. Ecco, Johnny English è più slapstick, se vogliamo. Mr. Bean era qualcosa di leggermente diverso, si può volendo scrivere lo slapstick, ma in realtà è più vicino alla comicità di un mimo, se vogliamo. Perché comunque non parlava mai, era tutto molto visivo e si basavano tutte le gag sulla sua fantasia, sulla capacità di cercare di creare situazioni assurde che però fossero anche divertenti. Il tutto attorniato da quell'umorismo inglese che lui è sempre stato molto bravo a mettere in pratica in tutto ciò che faceva a livello di intrattenimento. Ora, i primi due giorni in English li avevo trovati nei filmetti carini, simpatici. Se devo essere sincero, non avendoli rivisti recentemente, non è che io me li ricordi più di tanto. Ma perché non credo neanche che vogliono essere film che hanno la pretesa di essere ricordati, molto semplicemente. Lo si va a vedere questo Johnny English per Rowan Atkinson. La cosa che ho adorato è il fatto che abbiano puntato moltissimo sul fatto che lui si è invecchiato. Comunque sia Mr. Bean è un prodotto degli anni 90, Rowan Atkinson ha fatto altre cose, ha compreso altri film, però comunque la popolarità sfrenata che aveva presso il pubblico gigantesco si è un po' assopita, ma in Gran Bretagna rimane ancora una vera e propria icona. Ora, questa pellicola in particolare mi ha divertito molto. Ci sono situazioni abbastanza tipiche se conoscete il personaggio. Lui che non sa fare niente, ma che grazie alla sua goffagine alla fine salva la situazione in ogni missione che gli viene affidata. Ci sono un paio di gag che mi hanno fatto ridere di gusto, altre un po' più blande, ma comunque nel complesso non mi è dispiaciuto. Peraltro io adoro gli spy movie e Johnny English si pone come parodia degli stessi e dicevo che qui hanno voluto concentrarsi sul fatto che lui ormai è un po' datato come personaggio perché è una spia vecchio stile, una di quelle spie che si vedevano nei serial televisivi e nei film di una volta, quelli con la penna cerobottana, con oggetti comuni che però hanno stati convertiti in armi mortali come bombe e quant'altro, e rifiuta la tecnologia moderna. Quindi in realtà in questo film viene posto uno scontro generazionale, soprattutto se si pensa alla natura di uno dei personaggi, questo Jason Volta, che è un miliardario di internet, è una sorta di Mark Zuckerberg dei Noantri, e tra altre cose è un personaggio doppiato da Maurizio Merluzzo, che penso tutti conoscerete. Infatti quando ho aperto bocca e ho spottato la voce di Maurizio, infatti poi gli ho scritto e mi ha confermato che era così. In realtà non è che ci fosse bisogno perché sono stato fino alla fine del titolo di Codro proprio per vedere se era lui, perché c'è un altro doppiatore in Italia che ha una voce vagamente simile, però quella di Maurizio ha delle inflessioni molto particolari che sono inconfondibili, ma per sicurezza ho voluto controllare ed è stato molto bravo, è adattissima la sua voce per questo personaggio, quindi ho adorato la cosa, mi fa piacere che persone che stimo vadano avanti nel loro lavoro con successo, quindi complimenti al buon Maurizio. Per il resto Johnny English è un film abbastanza cazzaro, ma cazzaro sempre in quella maniera un po' raffinata, cioè anche le cose più becere sono rese quasi eleganti da Rowan Atkinson, che come persona, quando lo vedete magari a diversi eventi, ha un portamento che non sospetteresti, perché l'hai sempre visto goffissimo che si muove come una papera in Mr. Bean e poi invece lo vedi, è un vero e proprio gentleman inglese. E la cosa divertente è questo, che lui qui è un gentleman inglese, ma alla fin fine ha mantenuto quella goffaggine al Mr. Bean, peraltro noto con piacere che continua ultimamente a lavorare Olga Kurilienko. Kurilienko, modella e attrice, credo, non mi ricordo se è russo o ucraino, comunque è una modella e attrice dei pesi dell'est, che non lavorava più tantissimo nel mondo del cinema, la ricorderete per film come Max Payne, dove faceva la tossica, oppure anche, altro fintato a un videogioco, questa volta però decisamente superiore alla media, Hitman, il primo, quello con Timothy Oliphant, dove la interpretava la donna di Belikov, che veniva battuta come un materasso da questo schifoso pezzo grosso russo, pezzo grosso della politica. Ecco, l'abbiamo rivista proprio di recente in un film decisamente più impegnato e interessante come L'uomo che uccise Don Quixote di Terry Gilliam. Non sapevo, fosse anche in questo Johnny English colpisce ancora e sono rimasto abbastanza sorpreso perché mi fa piacere che lavori, perché comunque devo dire che oltre a essere una bellissima donna è anche abbastanza brava come attrice, quindi in L'uomo che uccise Don Quixote secondo me le hanno cucito addosso un ruolo che era perfetto per lei, qui è un ruolo decisamente meno impegnativo ma comunque l'ha svolto abbastanza bene, anche se avrei preferito che il suo personaggio avesse un epilogo. Alla fine è un personaggio estremamente piatto, è la classica femme fatale, che si incrocia con il protagonista, però non si sviluppa un vero e proprio rapporto tra i due. C'è anche Boff interpretato da Ben Miller che già abbiamo visto negli altri film, Ben Miller comico britannico che a me piace un sacco e che qui è un po' la voce della ragione, è il compagno assennato di Johnny English che cerca sempre di riportarlo sulla retta via quando fa cazzate, ma questo non riesce mai, è una sorta di sanciopanza britannico ma dei nostri tempi. Quindi la cosa mi è piaciuta. Registicamente ci sono dei momenti interessanti, per il semplice motivo che il film, come ho detto, è una parodia degli spy movie, quindi ci sono dei scignottamenti alla regia di alcune scene che abbiamo visto in mille film di spionaggi, inseguimenti in auto, momenti in cui il protagonista deve essere molto stelte e quindi sorprendere i nemici alle spalle. La regia aiuta, certo, è principalmente una commedia questo film, quindi non aspettatevi chissà quale impianto tecnico, ma per quello che voleva essere, secondo me, è una regia comunque abbastanza funzionale che ha qualche guizzo nei momenti giusti. Mi è piaciuta la colonna sonora, che naturalmente si rifà un po' ai vari film di James Bond, e questo è normale, un po' come accadeva negli Incredibili, che è sì un film in cui ci sono i supereroi, ma principalmente è uno spy movie, uno spy movie con personaggi che hanno poteri. Ma il riferimento di base a livello di genere cinematografico che viene preso in considerazione e messo alla berlina è proprio quello dello spy movie. Quindi anche in questo caso abbiamo una diversissima visione dello spy movie, molto più, insomma, cacciarona, qui viene messo seriamente alla berlina, però è così e mi fa ridere vedere lui che rifiuta la tecnologia moderna per utilizzare gadget che sono molto fantasiosi, ma anche considerati vetusti, proprio dei personaggi che popolano la pellicola. Per cui qui ho riso veramente tanto. In alcuni momenti c'è una scena in particolare che è sinceramente assurda, ma il modo in cui è costruita, per quanto tipico, mi ha ammazzato. Dico solo realtà virtuale. Chi ha visto il film sa a che cosa mi riferisco, e lì è lui, perché lui comunque ha delle espressioni facciali, ha una mimica che è impressionante. Lui riesce a farti sorridere e a cambiare completamente l'espressione con un movimento di entrambe le sopracciglia. Sono tutti tratti distintivi di Rowan Atkinson che conosciamo da Mr. Bean quando c'era lui che voleva fare il figo e iniziava ad avere delle espressioni da banfone, scusate questo termine poco speech, non è molto italiano, banfone, qualcuno magari lo capirà, è uno che si vanta, lo sborone. Altro termine, proprio in Ciclopedia Treccani. Però il punto è, mi piace perché lui basava tutto sulla fisicità. Anche Johnny English è un personaggio estremamente fisico e basato proprio sui movimenti facciali e non. Per cui in questo caso, insomma, mi sono divertito. Anche perché il punto di forza di questa trilogia, chiamiamola così, perché per il momento è una trilogia, ma chissà se ne faranno altri, è proprio il fatto che lui venga affiancato da personaggi che sono invece normali, non sono degli imbecilli, degli inetti. Lui lo è, ma crede così tanto in quello che fa che anche quando fa dei casini incredibili riesce poi a portare a casa la giornata. Ora, io ci ho visto delle citazioni, non so se è voluto meno, alla palottola spuntata. La palottola spuntata però non era tanto una parodia dei film polizieschi, era proprio uno spoof movie. Ovvero, il riferimento era nei film polizieschi, ma fondamentalmente c'è del nonsense nudo e crudo. Cioè lì era proprio nonsense, lo spoof. La demenzialità, però era una demenzialità che ha da avercela oggi. Poi c'era il grande Leslie Nielsen e c'è una scena che mi ha fatto pensare al primo La Palotta spuntata. Lì stavo veramente morendo perché ho detto, no, non ci posso credere, è una citazione chiarissima. E quindi mi sono abbastanza divertito. Poi, per amore del cielo, ci sono molte battute che bene o male vengono in un certo senso riciclate da mille altri film, nel senso che molte battute sono prevedibili, perché la battuta solitamente è un personaggio dice una cosa, quella cosa ritornerà poco dopo, Johnny English sarà alle prese con quella cosa e farà macello. È sempre così. È uno schema che si ripete più volte all'interno del film, ma stranamente riescono a gestirlo in modo che non diventi pesante. Ora, è un film che ha sicuramente dei difetti, ma il punto è che, ecco, un difetto può essere un po' la ripetitività di alcune gag, però, sì, è un difetto ma a me non ha dato fastidio. Però, quello che ho detto adesso, a me personalmente la cosa non mi ha infastidito. Poi, per amore del cielo, la trama è molto semplice, molto di base, però, anche qui, è un difetto se cercate un film di spionaggio, non è un difetto se vi rendete conto che è un film sì di spionaggio, ma molto, molto comico, che vuole avere una trama semplice in modo da non impantanarsi in chissà quali virtuosismi di sceneggiatura, perché non ce n'è bisogno. È una commedia, la commedia ha lo scopo primigenio di far ridere, ok? Questo film ci riesce, sì, ma non in maniera sguagliata, quindi dipende anche da cosa cercate. Forse alcune cose non fanno ammazzare da ridere, altre sono, secondo me, abbastanza, non dico geniali, ma ben congegnate. È ovvio che se andate a vedere il film con certe pretese non rimarrete soddisfatti. Dovete aver ben presente chi sia Johnny English e non dico aver visto per forza i primi due film, ma perlomeno esservi fatti un'idea di che cosa questo prodotto potrebbe offrirvi. A livello di comprensione, non essendo per appunto un film che punta sulla trama, non è quello il fulcro, potete guardarlo anche senza aver visto i primi due. Se ci sono personaggi che sono già comparsi, ce ne sono pochissimi, te lo dicono e boom. Poi c'è anche Emma Thompson nel ruolo del primo ministro, ed è un primo ministro abbastanza fedifrego, se vogliamo, dedito all'alcolismo, per niente lungimirante, che non capisce che ha il pericolo a un metro da se stessa. Quindi, insomma, è un personaggio che vuole essere un po' un ostacolo, ma un ostacolo tutto sommato divertente. Quindi non è che ci sia poi molto altro da dire su Johnny English colpisce ancora. È un Johnny English. È il migliore dei tre? No, però secondo me è perfettamente in linea con gli altri due. Tra l'altro, vorrei sottolineare come, all'epoca in cui uscì il primo Johnny English, se non erro, Rowan Atkinson cade in depressione, perché il film non andò bene come avrebbe sperato. Però, se effettivamente il film non era andato così bene, come mai siamo arrivati al terzo capitolo? Alla fine si vede che riescono a contenere relativamente il budget. Riescono comunque a farsi un loro pubblico, magari una nicchia, ma abbastanza allargata, e quindi alla fine rientrano nei costi. È un film di cui si sentiva bisogno Johnny English colpisce ancora? Assolutamente no. Se non fosse più uscito nessun capitolo di Johnny English, che dopo il secondo, che se non sbaglio era al servizio di Sua Maestà, una cosa del genere, che riprendeva per l'appunto il... Forse era Dio salvi la regina, una cosa del genere. Comunque aveva un titolo che richiamava uno dei James Bond. Ecco, se non fosse uscito alcun altro capitolo dopo, io personalmente non mi sarei lamentato, non è che me ne sarebbe fregato più di tanto, però già che è uscito posso dire che è un filmetto simpatico, che fa il suo dovere, che fa quello per cui effettivamente era stato pensato. Oltretutto, ripeto, è un film che ti fa riflettere su come le cose siano cambiate nel giro di poco tempo, perché io sono del 1988, il mio nickname lo dimostra. Io, personalmente, non riesco ogni tanto a capacitarmi di come le cose siano cambiate, perché è vero, il progresso va avanti, non lo si ferma, ma il punto è, penso anche solo a dieci anni fa quanto erano diverse le cose. Gli smartphone sono diventati di uso comune da neanche dieci anni, sei o sette anni. Prima non li usavano tutti, io mi ricordo che nel 2012 conoscevo un sacco di persone, a me compreso, che usavano ancora i normali telefoni a tastiera. Adesso la tastiera è praticamente un ricordo, solo pochissimi nostalgici hanno ancora un telefono a tastiera, perché ormai il touchscreen è di default. Non c'era la connessione totale a internet che c'è oggi. YouTube stessa era assolutamente diversa rispetto a come è oggi. C'era tutto un altro meccanismo, adesso invece abbiamo YouTube, abbiamo Twitch, Facebook non aveva l'importanza incredibile che adesso, Instagram, insomma ormai la nostra vita è dominata dalla connessione. Provate a immaginare se all'improvviso vi venisse tolto internet. A parte il panico personale, ma poi crollerebbe la nostra società. Siamo diventati dannatamente dipendenti dalla connessione, dall'essere continuamente connessi. Insomma, sarebbe il caos. Siamo dipendenti in tutti i sensi, quindi il film, pur non avendo pretese di mandare chissà quali messaggi e quant'altro, riesce a far riflettere su una questione sociale che secondo me ha delle tinte inquietanti, perché comunque è veramente inquietante il caos che seguirebbe alla sospensione delle connessioni internet. Crollerebbe la nostra società la borsa, la gestione del traffico, la gestione dei mezzi di trasporto, ci sarebbero dei momenti di panico totale e secondo me ci sarebbero anche dei discreti disastri proprio fisici, capito? Proprio per mezzi che perdono le coordinate e quant'altro. Poi per l'amore del cielo abbiamo ancora dei supporti analogici, ma se venisse sospeso internet le prime ore sarebbero decisamente terribili, per cui è un film che ti fa riflettere anche su questo aspetto. Per il resto Rowan Atkinson è sempre il solito, è invecchiato ma il suo smalto è quello, per cui io sono molto contento quando esce un film con lui perché anche se alla fine i due personaggi più riconoscibili che ha portato in scena sono Mr. Bean e Johnny English, è sempre un piacere vederlo in quei ruoli. Quando uscì Mr. Bean's Holiday a distanza di parecchi anni rispetto al primo film di Mr. Bean, l'ultima catastrofe io fui contento perché sebbene non fosse chissà quale filmone geniale io personalmente adoro vedere Mr. Bean sullo schermo grande o piccolo che sia. Certo preferisco gli sketch perché comunque come tutti i prodotti televisivi che vengono dirottati al cinema funzionano sempre un po' di meno rispetto a come funzionavano sul loro medium. Poi ci sono senza ombra di dubbio delle eccezioni basta di pensare ad esempio alla saga Mission Impossible carina la serie ma assolutamente i film sono qualcosa di spettacolare per cui forse dà il meglio di sé sul grande schermo piuttosto che sul piccolo ma uno sketch show come quello di Mr. Bean su un film di uno e mezza rende ma meno che in televisione perché è il destino di un po' di durata limitata quando poi vengono però buttati al cinema e la durata si allunga ecco che funziona leggermente meno ma Rowan Atkinson è stato bravo a far funzionare anche i film magari leggermente di meno rispetto alla serie tv ma comunque era di alto livello quello che è riuscito a fare rispetto a tanti altri prodotti simili che sono stati portati poi sul grande schermo per cui io sinceramente vi consiglio di vederlo se volete andare a vedere una commedia leggerissima e divertente con tanto slapstick e momenti abbastanza assurdi quindi quello che immagino è che molti vorrebbero puntare su film come The Predator o A Star is Born però se c'è posto nel vostro nei vostri impegni anche per un John English se cercate una cosa come questa il mio consiglio è di andare a vederlo adesso io vi abbraccio grazie a tutti tanto ma tanto quanto vi voglio bene porca miseria io adesso farò spoiler quindi se non avete visto il film e non volete sapere la mia più nello specifico vi saluto ci vediamo al prossimo video altrimenti se avete visto e volete sentimi parlare in maniera più specifica del film per qualche minuto gli spaventate a tre due dunque a parte il fatto che ho trovato carinissima l'idea di rendere Johnny English una volta andato in pensione dei servizi segreti un insegnante in un college elementare inglese dove per l'appunto insegna ai bambini agli suoi studenti come diventare una spia quindi insegna il mimetismo gli insegna le tecniche per mettere fuori il combattimento dei nemici gli regala i gadget come il grissino cerbottana la mela bomba a mano queste cose molto anni 60 che a me fanno sempre sorridere poi bellissima la scena in cui gli chiedono di scegliere tra le varie auto ibride lui sceglierà Aston Martin oppure quando gli chiedono che tipo di smartphone voglia lui lo rifiuti e dica datemi una pistola cioè si fa capire quanto lui sia vecchio a scuola e quanto il mondo intorno a lui sia cambiato ma lui si rifiuti di per l'appunto cedere all'allusing della tecnologia è una delle scene più divertenti è quella in cui usa quella tuta che è una super tecnologica negli anni 80 e che funziona con il potenziamento tramite floppy disk quella scena mi è piaciuta poi ho trovato molto per l'appunto inquietante il discorso del cattivo che è Volta non ho voluto dire la parte non sparita ma è una palese fino all'inizio che per l'appunto vuole spegnere internet fa questa minaccia in modo da poter avere il controllo totale grazie alla tecnologia tutta la scena nel castello in Scozia con John English con l'armatura lì mi ha fatto morire ma perché per l'appunto sono magari gag un po' datate nell'umorismo ma fanno sempre ridere c'è lui che dice lo vado a prendere quando a volte sta scappando però siccome l'armatura pesante che non riesce a sganciare inizia appunto ad andare pienissimo e poi si sgancia proprio quando ci sono i fotografi che stanno immortalando il suo successo e rimane a culo all'aria ora questa cosa è forse un po' ulgarotta se vogliamo ma è la faccia che fa lui c'è capito la sua faccia è una cosa fantastica altra cosa altra scena con una gag veramente ma veramente prevedibile ma che mi ha fatto morire quando lui è sullo yacht e c'è questa scena a James Bond con la curidenco che dice qual è il suo nome ma chi sei tu ci rivedremo presto si butta ma era andato sulla plancia in alto non si era accordo che buttandosi non sarebbe finita l'acqua ma in un altro piano della nave quindi si lo vedete appunto sul sul pavimento dolorante è una cosa vista miliardi di volte in più prodotti mediatici ma mi ha comunque fatto pisciare sotto la ridere perché ripeto non è tanto il cosa fa ma è il come lo fa a livello facciale a livello proprio di volto lui è meraviglioso cioè io lo adoro totalmente poi anche l'inseguimento al personaggio della curidenco quando incontro i ciclisti che li neutralizza con una bomba fumogena c'è capito lì è una roba assurda lì pensi ma che cazzo cioè capito sono tutte gag non particolarmente brillanti o geniali ma sono rese bene nel loro essere assurde magari uno si aspetterebbe qualcosa di diverso però alla fine è un film che ha come protagonista un attore comico che ha un humorismo legato agli anni 90 per cui ci sono tante cose molto anni 90 una di queste ad esempio è lui che sa che è inseguito dal cattivo va fermo a questa macchina ed è una macchina della scuola guida quindi lui si sostituisce all'istruttore e si fa per appunto guidare dalla tizia perché lui è ammanettato e ha però i pedali dell'insegnante no? la cosa divertente è che questa cosa mi ricordo però appunto la parolta spuntata solo che nella parolta spuntata Frank Drebin per inseguire il medico che era sotto il controllo del cattivo che era Riccardo Montalbana ricordiamolo e saliva sul lato ma c'era l'istruttore di scuola guida che dava istruzioni alla ragazza che guidava però il punto è che qui è lui che si sostituisce all'istruttore ma è una cosa molto anni 90 una cosa ripresa direttamente da quel film io l'ho trovata divertente alcune gag secondo me sono anche meglio rispetto a quella ad esempio del secondo John English poi è carina l'idea per l'appunto che lui debba tornare in azione dopo essere andato in pensione perché hanno reso pubbliche tutte le identità degli agenti dell'MI7 e quindi gli unici in servizio sono lui e altri tra altre cose c'è un cameo di Michael Gambon e Charles Dance che lui neutralizza per sbaglio con questa bomba fumogena mettendoli nell'impossibilità di per l'appunto entrare in servizio anche la scena al ristorante con lui che dà fuoco al ristorante con una maniera assurda perché non riesce a fare i gambe di flambè io lì ho riso è stupida è già vista come cosa ma personalmente mi ha ammazzato dal ridere sono una mente semplice io me ne rendo perfettamente conto pure il momento in cui prende per sbaglio le pillole eccitanti e quindi si mette a ballare come un cretino fino a quando non crolla nell'ufficio dell'MI7 insomma sono tutte cose magari non genialissime ma che sono realizzate in maniera simpatica e poi per me la scena totale è quella della realtà virtuale con lui che non sblocca la pedana e quindi si mette a girare per la città per Londra mentre fa con l'Oculus questa simulazione in cui devono trezzare cattivi e picchia la gente per strada ma la scena in cui lui atterra con delle baguette il come posso dire il cameriere nel ristorante oppure che spinge la signora l'anziana in carrozzella in mezzo alla strada cioè lì c'è anche un po' di politicamente scorretto peraltro quando il ministro Emma Thompson il primo ministro inizia a elencare tutti i danni fatti da John English mi ha ricordato ancora una volta la parola spuntata quando il capo della polizia passa in rassegna tutte le le cazzate che ha fatto Frank tra cui anche molestia di una statua di cemento io lì mi ricordo che all'epoca ero un bambino ma stavo morendo perché la scena di lui sulla statua per quanto volgare era nonsense demenzialità pura ma quanto cazzo era fatta bene lui con la tizia che si affaccia c'è lui che ha grappato al pene della statua per quanto sia terra terra come humor è perfettamente congegnato e John English in questo senso fa una cosa molto simile senza mettere in ballo pieni di statue vari quindi questo è quello che pensavo circa John English colpisci ancora vi dobbiamo scrivere cosa ne pensate senza fare spoiler così non roviniamo le gag migliori anche a chi ancora il film non ha visti un abbraccio che ci siamo fatti tanto tanto ma tanto bene noi ci vediamo al prossimo bui vlog